Il Covid ha lasciato ferite profonde in tanta parte della città e la proposta di bilancio e di documento unico di programmazione presentata dall'Aggiunta Masci è ampiamente insufficiente, contraddittoria e debole, lo affermano i consiglieri comunali del Partito Democratico e delle liste civiche di centro-sinistra. In questi giorni di confronto le opposizioni si stanno battagliando sulla possibilità di vedere rafforzati gli investimenti nelle politiche sociali e nella cultura, la possibilità di vedere istituita fin dalle prossime settimane la consulta del Verde per quanto riguarda le società municipalizzate di ricorrere alle graduatorie concorsuali e non agli interinali. Noi abbiamo dei bandi dove ancora non si presentano domande per le scuole innovative e siamo in attesa, non si sa di cosa, allora vorremmo essere noi a questo punto un elemento propulsore per dare una nuova spinta a questa amministrazione. Allora forse l'amministrazione, la maggioranza di questa amministrazione è in attesa di un rimpasto di giunta? È in attesa del rimpasto di giunta ma se vogliamo dirla tutta stamane stavamo parlando ancora, discutendo in Commissione Politiche Sociali e Sicurezza per la seconda volta dell'aumento delle sanzioni per deiezioni canine, abbandono dei rifiuti. Non sono questi gli argomenti attualmente che realmente ci interessano, noi vogliamo portare a casa qualcosa di buono e di positivo per la nostra città. A risentirne proseguono i consiglieri comunali, soprattutto i giovani che vedono la città svuotarsi sempre di più. Più spazi di aggregazione, più aule studio, questa amministrazione ha promesso in campagna etorale una biblioteca comunale, quindi proprietà del comune di Pescara. Ad oggi, dopo tutti questi mesi, non si vede l'ombra di nessun progetto, di nessun finanziamento per quest'opera che sarebbe il primo passo nei confronti di una generazione che ad oggi a Pescara vive senza orizzonti purtroppo. Grazie.